Ciao a tutti, oggi parliamo di frutta, sappiamo bene che la frutta fa molto bene in tutte le ore della giornata, apporta calorie al nostro organismo ma senza farci ingrassare quindi ottima per chiunque, per chi fa sport, per chi vuole mantenersi in forma perfetta e anche ai bambini oggi vi parlo di un frutto un po' particolare che devo ammettere non conoscevo, arriva dalla NERGI, si tratta di baby kiwi questi kiwi così piccoli che sono rispetto a quelli che siamo abituati a mangiare ogni giorno, molto particolari sono diversi perché sono appunto molto piccoli e la buccia è talmente sottile che è commestibile quindi diciamo che di questo piccolo frutto non si butta assolutissimamente nulla è un frutto che arriva dall'Asia e ultimamente è stato prodotto anche qui in Italia nel Piemonte, nella zona del Cuneese appunto dall'azienda NERGI che mi ha voluto omaggiare appunto di due blocnotes con appunto lo stemma dell'azienda in più di due confezioni di NERGI, piccoli kiwi che possono essere utilizzati veramente a 360 gradi quindi possono essere mangiati semplicemente come frutta oppure messi nei biscotti oppure per decorazioni nelle nostre torte o ancora per fare delle torte salate o guarnire un piatto insomma basta semplicemente usare un po' di fantasia e vedremo come questo piccolo frutto sarà veramente ottimo da usare ovunque oltre a questo abbiamo un foglietto illustrativo in cui si spiega proprio l'origine di questo frutto le sue caratteristiche è un frutto che possiamo trovare nei supermercati del nord Italia nel reparto in cui troviamo i frutti di bosco in effetti questi piccoli kiwi vengono messi assieme ai frutti di bosco quindi lamponi, mirtilli e così via presto avrete le mie opinioni su questo prodotto nel mio blog vi ricordo l'azienda NERGI che potete trovare per più informazioni e quindi conoscere questo nuovo frutto al sito www.nergi.it presto troverete le mie opinioni quindi sul mio blog ciao e a presto